Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana, possibili disagi nel nodo fiorentino dell'autostrada e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Per la cantiristica segnaliamo che dalle 22 di mercoledì 23 marzo partono importanti lavori in Fipili nel tratto compreso tra Montelupo ed Empoli Est. In tutto si tratta di 3 km di strada che verranno suddivisi in zone e fasi di lavoro. Sono previsti lavori notturni e una interruzione delle lavorazioni dalle 17 alle 22 e dalle 6 alle 8 di mattina in modo da evitare le fasce orarie dei pendolari. Per il traffico urbano di Firenze segnaliamo restringimento per lavori via Le Strozzi, Angolo, via Lavagnini. Buona versi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!